Allontanati un po', allontanati un po' perché sennò vengo un faccione così sul monitor. Allora ragazzi, questo è un aggiornamento in corso d'opera perché stamattina dopo aver reiteratamente richiesto il documento del cosiddetto informato elettronico attraverso la trasmissione della nostra posta elettronica certificata, come prevede il tanto decantato processo telematico. Sì, tanto per dire proprio l'altro ieri in televisione, perché è bello che in televisione ci sono anche dei programmi illustrativi, in televisione hanno fatto vedere cosa succede in Francia dove praticamente il sistema telematico è in funzione. Però è un sistema telematico che è in funzione dove chi manda e chi riceve ha sufficiente senso sia di giustizia, che di rispetto del cittadino e che di intelligenza. Quindi questi non solo sono dei cialtroni, a incominciare dai magistrati, non solo non capiscono un cazzo e pretendono di comandare sugli altri, e poi sono pure dei ladri, capito? Non sono capaci nemmeno di far funzionare queste cose che loro stessi hanno organizzato. Nell'assoluto minimalismo poi, almeno al minimo, no? Niente, Zairo. Niente, nemmeno è quello. Allora, diamo un po' di coro di storia. Ci soffiano di sotto il naso un diritto costituzionale, che è quello del diritto e d'obbligo di indizione del referendum consultativo in caso di mutazione del diritto del cittadino, di una traslazione dei diritti sovrani del cittadino. Intendiamoci bene, quando tu parli di diritto costituzionale, tu non parli di un diritto generico, c'è un articolo specifico che prevede proprio cosa si deve fare quando dalla città semplice, dal comune, si va alla città metropolitana. Intanto c'è l'articolo costituzionale numero 48 che stabilisce che il cittadino elettore ha il diritto, dovere di poter avere accesso al voto libero, democratico e uguale per tutti, in modo che sia completamente esprimibile il suo potere decisionale di cittadino detentore. Ma questo non entriamo nel merito, le conseguenze, la norma deriva da questi presupposti. Allora, da questo presupposto esiste, nello specifico, tutta una serie di regi, in particolare il decreto legislativo 265 del 99 e il 267 del 2000, che stabiliscono nei primi tre o quattro articoli, entrambi, che ogni variazione di procedimento che viene incardinato, che riguarda i cittadini pregiudizievoli, lato positivo e lato negativo, non hanno alcuna importanza. I cittadini devono essere coinvolti nella decisione di quello che si deve fare o non si deve fare, delle modalità e quant'altro. E in più devono essere chiamati a esprimere la loro volontà se sì o no, se si deve fare o non si deve fare. Non che uno prenda e si alza la mattina, dice, non faccio una bella legge, il signor Letta, poi successivamente approvata dal signor Renzi, decidono che strottaggono un delitto costituzionale assoluto di votazione e che cosa fanno? Decidono di fare eleggere il super sindaco della città metropolitana o di Milano, o di Torino, o di Palermo, o di tutti gli altri dieci capoluoghi di provincia che sono nella legge del casso del 56-2014, e che cosa dicono? Dicono che riformano il circuito dei grandi elettori, a umma a umma, senza dire un cazzo a nessuno, non ne ha parlato un solo telegiornale, un solo giornale di questa vicenda. Cioè, praticamente, che cosa fanno? Per esempio, per Roma, i 164 sindaci dei comuni della provincia di Roma, che cosa fanno? Vanno a votare insieme ai loro consigli comunali e decidono della sorte, in circa 8.000 persone, decidono delle sorti di 5 milioni di persone. Non se può fare! Esattamente. Ma la cosa incredibile è che queste elezioni, nonostante le nostre denunce che abbiamo fatto anche penali a partire dal 3 settembre, l'altra settimana, lunedì passato, non questo lunedì, lunedì della settimana passata, senza che nessuno avesse né un giornale, né un telegiornale, né preannunciasse l'evento, hanno indetto le elezioni e l'unico che ha parlato di queste elezioni a posteriori è stato il Tg3 del Lazio, che ha enfatizzato la partecipazione al voto di questi testa di cazzo di 8.000, che in realtà poi hanno votato in 4.000, cioè più o meno la metà. Esattamente. Questo per dire che è stato messo in atto il solito refrain, più bello, più francesista, il solito refrain che si ripercuote e ripercorre tutte le volte che avvengono situazioni di genere. Allora, che cosa è successo? Siccome noi il 3 settembre abbiamo depositato la denuncia penale, il 12 settembre abbiamo fatto il ricorso al Tardellazio per inibire sul momento le elezioni, l'abbiamo presentato anche alla Corte dei Conti. L'udienza in merito per la fissazione di tutto il procedimento è stata fatta il 24, e fino a lì tutto bene, il 24 settembre. Dal 24 settembre ci è stato detto che avremmo avuto il verbale dell'udienza entro una settimana, e in questa settimana, dopodiché, abbiamo cominciato a martellare le telefonate la cancelleria del Tribunale, insomma ci hanno detto che non c'era, era in sciopero, era in vacanza, era fuori posto, stavano cagando, stavano quello che cavolo volete voi, fatto sa che ad un certo punto, ieri finalmente ci è stato confermato che il verbale era pronto, io stamattina vado giustamente, io ho detto ma andatelo per posta elettronica certificata, visto che c'è il processo elettronico telematico. Che non sanno gestire, tra l'altro. No, ma per fortuna che non c'era, devo dire che nella disgrazia, per fortuna che sono andato, perché andando ho scoperto questo che adesso vi dico, e cioè, che, intanto un sacco di difficoltà per avere accesso, non vi dico, tralasciamo, qui squiglie in confronto a quello che poi è successo, praticamente abbiamo presentato questo ricorso che era in merito alla mancata indizione delle elezioni del referendum, Allora, noi abbiamo fatto richiesta di adire alle condizioni agevolate per il processo amministrativo elettorale, che prevede tutta una serie di cose, fra cui anche l'esenzione totale dal pagamento di bolli, marche e quant'altro. Insomma, scopro stamattina invece che il processo era un processo regolare secondo loro, quando mi sono cominciato ad incazzare e sono andato a parlare con il cancelliere, l'ho messo sull'attenti e gli ho detto, ma lei sa leggere l'italiano o non sa leggere? Perché se lei legge, vedi, basta che legge il titolo del ricorso e ha già capito tutto, senza andare a leggere le venti pagine del ricorso. Ma probabilmente il cancelliere non sa leggere? Quello che è incredibile è che pure il giudice non sa leggere, pure il capo ufficio del cancelliere non sa leggere. Cioè è mai possibile che una cosa così eclarante, di una dimensione, diciamo così, immane, come può essere la mancazza indizione di una elezione, che è esattamente la situazione che stiamo vivendo anche a livello politico nazionale. Cioè è mai possibile che non c'è un eletto e questo invece viene lì e fa come cazzo gli pare. Vabbè, insomma, in conclusione, finalmente oggi dopo aver strigliato per bene il cancelliere e tutta la sua consorteria lì attorno, in cinque minuti, in cinque minuti, perché non era manco stato firmato dal giudice. Oltre tutto. Io gli ho fatto telefonare al giudice e gli ho detto, ma lei si rende conto? Giudice ha messo la croce, presumo che è probabile che non sappia né scrivere né leggere. È probabilissimo. Siamo al delirio. No, non parte al delirio, ma siamo proprio al crollo più totale. Il crollo più totale del senso dello Stato. E quindi il potere della Chiesa. Certo, ma lo diciamo così. Il libro che uscirà fra breve che sto completando, in ultimo, a parte la denuncia con l'elenco degli immobili, dei 2.000-4.000 milioni, dei miliardi di proprietà della Chiesa e compagnia bella, di euro, non di 2.000 milioni di miliardi di lire. Chiediamo al cartone Bertone. No, allora, c'è una bella, diciamo, schema rappresentativo del potere. Esattamente. Fatto benissimo. No bene, benissimo. In cui tutti i dasselli stanno nel loro giusto ordine. Esattamente. Dove in cima all'ordine... C'è il cupolone. C'è il cupolone, giustamente. Per fare ovvio. Allora, per finire, oggi finalmente poi in 5 minuti si sono dati la mossa tipo francesiello e hanno completato il tutto, per cui hanno tolto pure gli appelli che c'erano, hanno pure tolto che dovevo pagare 32 euro e ho pagato 1,68 euro perché è giusto il diritto di copia, mi sembra giusto. E quindi ecco, adesso ho letto finalmente il verbale e dal verbale ho scoperto, perché prima non potevo, che esiste, è stato accolto il discorso di pronuncia che aveva fatto l'avvocato Cerchiara, in cui ha detto, perché c'era stata quella carenza nostra iniziale di mancata notificazione alla controparte, quindi è stato dato giustamente il tempo per rincominciare la procedura dell'atto di citazione. Quindi noi adesso dovremmo citare la controparte, il Comune di Roma, area metropolitana, Roma capitale, eccetera, e poi andare in Altar per fissare finalmente una data dell'audienza nel merito. Questo bisogna farlo più presto perché altrimenti occorre dirlo, in questa fase, le cosiddette super consiglio comunale, quello dell'area metropolitana, in realtà è un abuso, è un'usurpazione di diritto, perché noi non abbiamo mai ceduto legalmente il nostro diritto di elettori, quindi non abbiamo mai approvato quella delibera, non abbiamo mai approvato quella delibera del Comune di Roma, a cui noi facciamo riferimento, che il tuo amico ci ha gentilmente trasmesso, e sulla base del quale poi abbiamo fatto questa denuncia. insomma, ecco, finalmente, entro, speriamo, qualche giorno, incomincieremo il leader normale. Nel frattempo, qualunque iniziativa prendesse la città metropolitana di Roma capitale, è comunque fuori della legge. Esattamente. Allora, io voglio concludere per fare un ulteriore e ultimo chiarimento, perché non è uscito fuori da questo, cioè la legge costituzionale, la Costituzione, a norma dei principi fondanti della rappresentatività democratica, ha stabilito che qualora si debba fare una città metropolitana, devono essere coinvolti tutti i cittadini del Comune, della provincia, della città stessa. No, no, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. No, vabbè, allora, questi cittadini non sono stati mai convocati, per quanto riguarda la marea di comuni che stanno... Oltre 160 comuni. Esatto, che stanno dentro la provincia di Roma, la ex provincia, la decadente provincia di Roma, ad eccezione del Comune di Civitavecchia che aveva indetto un referendum, ma non per stare o non stare nella città metropolitana... Ma perché già da anni vogliono caslare su Viterbo. E fanno bene aggregarci alla provincia di Viterbo. Dopodiché, cari amici, vi teremo informati sugli... No, io volevo aggiungere una postilla, velocemente, e cioè per far capire la normità e l'assoluta infamità di una simile situazione, va detto che mentre anche la Costituzione stabilisce che il diritto vale per tutti ed è uguale per tutti e un voto è un voto, qui invece in questa sporca leggina che hanno fatto la 56-2014, fra l'altro prevedono una diversità di valore del voto. Allora, a secondo della dimensione demografica del Paese, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 e 1 milione. Allora, di città sopra il milione nella provincia di Roma c'è solo Roma, quindi i 50 elettori del Consiglio Comunale di Roma più il Sindaco, il voto di questi signori vale 1, mentre tralascio tutta la trefila, tutta la varia filiera, scendo all'ultimo, i Paesi sotto i 5.000 abitanti che nel Lazio sono tantissimi, soprattutto quelli in collina e montagna, il voto dei loro consiglieri e dei loro sindaci vale 0,3. C'è un coefficiente di valore che cambia completamente le carte in tavola, in modo che comunque sia, ma a prescindere poi dal ragionamento che si può fare, che risulta evidente a tutti, che è veramente una ignominia. La cosa ancora più ignominiosa è che è comunque talmente liberale la legge che prevede che il Sindaco di questa città, Roma Capitale, deve essere per forza il città del Comune di Roma. Cioè questa è una violazione al diritto essenziale dell'equità che potrebbe essere benissimo il Sindaco di Scurcola Marsicana, per esempio, che magari ha più titoli, ma ha più titoli e più degno di questo cialtrone che sta qui ad amministrare. Questo signore è proprio indefinibile, è talmente abnorme nella sua nullità e nella sua negatività che è indefinibile. Va bene per quest'Italia.